Essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Non è una cosa facile. Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione volendo imporre un solo modello culturale. A volte non si è rinunciato neppure alla violenza pur di far prevalere il proprio punto di vista. La libertà ottenutaci dalla morte e risurrezione del Signore non entra in conflitto con le culture, non entra in conflitto con le tradizioni che abbiamo ricevuto, ma anzi immette in esse una libertà nuova, una novità liberante, quella del Vangelo, che entra in ogni cultura, ne riconosce i germi di verità presenti e li sviluppa portando a pienezza il bene contenuto in esse.